ciao benvenuto in questo nuovo video mi chiamo carlo sono insegnante di basso elettrico allora andiamo a vedere il riff numero 12 del mio metodo ebook easy slap se cerchi informazioni le trovi qua sotto in descrizione è un metodo per iniziare ad impostare il pollice ma poi non solo anche proprio la tecnica dello dello slipper si parte abbastanza dall'inizio ma si va abbastanza avanti diciamo con dei trucchetti belli incastri in questo esercizio 12 andiamo a lavorare ancora con il pollice ma mettendo anche delle altre tecniche cioè andiamo a inserire l'emmeron e l'alternanza nota reale nota ghost fatta con il pollice quindi vedrai che partiamo con all'inizio sol la do re quindi noi colpiamo il sol con il pollice poi o col mignolo o con l'anulare andiamo a fare un emmeron quindi non ribattiamo con la mano destra col pollice la nota così ma diamo solo il primo colpo e il secondo lo facciamo con un emmeron attenzione a tenere bene il dito martelletto e cadere in maniera secca questo che stai sentendo non è così facile da fare infatti provaci ma inizialmente bisogna capire un pochettino innanzitutto rafforzare la mano e capire poi come scendere in maniera secca quindi se tu vai appoggiare non non esce poi quella nota o meno si fa fatica all'inizio alterniamo quindi sulla corda di mi e sua corda di la sola sono ottavi dopo andiamo a prendere la nota fa con il pollice attenzione la corda di re e quella di solo col pollice sono un po più difficile a colpire perché più e fine la corda e più deve essere preciso e meno esce facilmente il il suono il suono del del pollice quindi dobbiamo tra l'altro farne una reale un fa reale e uno con la ghost nella ghost e la mano sinistra che va a bloccare perché la destra colpisce come se dovesse suonare una nota reale poi andiamo sul re equati e nella partitura troverai che consiglio di andare col dito uno perché poi la mano deve spostarsi in questa porzione della tastiera quindi la ghost ghost io se mi sono spostato col dito uno come ti ho suggerito poi ho la mano pronta per andare a prendere le due note seguenti che sono fatte col pollice su accorda di re si bemolle e la sono dei quarti quindi sono più lunghe delle altre col mignolo e con l'anulare quindi mano aperta quattro dita quattro tasti vedi come in un esercizio ci sono già comunque due tre tecniche bisogna aver la mano bene a posto ben preparata per poi poterle suonare più in velocità e la mano destra deve seguire sempre tutto questo essere comunque anche molto precisa quindi sol la do re fa ghost re ghost si bemolle lungo la lungo per concludere la battuta ma non sempre fermo ho fatto la vado sul ipotetico sol perché inizio con due ghost 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 emmeron sol la mio consiglio è quello se c'è un punto in cui ti pianti vedi che è più difficile estrapolalo e lavora su quello se il difficile è ghost ghost e emmeron sol la mettilo in loop finché verrà pulito e allora lo puoi inserire poi nel resto battuta 3 4 simile come idea quindi è una sorta di botta e risposta parte uguale sol la do re fa ghost ghost anziché andare si bemolle la qua prendo sol la quindi lunghe da un quarto sol la poi sposto la mano sull'ipotetico do che sarà la prima nota reale che dovrò suonare dopo ma ho due ghost prima quindi come prima avevo fatto ghost ghost sol la qua vado a fare ghost ghost do re e poi avrò già la mano pronta per ripartire dal sol ok proviamo a farlo lento lento tre e quattro riparto da capo eccetera eccetera mettiti una batteria con oppure un metronomo che che ti scadisce i quarti oppure ancora più divertente con con una batteria spero che ti sia tutto chiaro se non è chiaro mandami un email scrivimi a me fa piacere se posso aiutarti darti dei consigli oppure scrivi qua sotto nei commenti cosa ne pensi di questo video se ti può essere utile se al mio metodo e già lo stai usando e ci vediamo al prossimo video grazie per avermi seguito fino 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 alla fine ciao